Bentornati nella nostra rubrica il touch of dove vi presento le nostre nuove strutture io sono Valentina Sgaglione Reservation Revenue Manager di Italia Notting Group e oggi vi accompagno a conoscere una nuova struttura mare, vacanza al mare e andiamo a Silvimarina in provincia di Teramo Honda Hotel 3 Stelle le nostre 90 camere sono spaziose e luminose e quelle al primo piano hanno sotto il balcone offriamo un trattamento di pensione completa quindi con pernottamento, prima colazione, pranzo, cena bevande inclose, acqua e vino in caraspa per chi vuole godere veramente dell'estate non è solo mare ma anche piscina e noi abbiamo, vi mettiamo a scelta in queste due opzioni quindi potrete trascorrere una giornata in piscina all'interno dell'onda hotel della nostra struttura oppure potrete decidere di trascorrere la vostra giornata al mare esattamente sul nostro lido che si trova a 350 metri attraverso un sottopassaggio pedonale comunale molto comodo che vi porterà su questa bellissima spiaggia ampia che è non solo bandiera blu ma anche bandiera verde quindi l'ideale per i bambini proprio perché la sabbia è fine e c'è un certo distanziamento tra gli ombrelloni ma di fatto dove si trova la nostra spiaggia dove è ubicato il nostro lido nell'area marina protetta del Cerrano l'onda hotel di Silvi Marina è anche ubicato accanto al centro commerciale Universo avrete a disposizione un'ampia scelta di negozi ma anche di pizzerie, gelaterie o ristoranti alternativi che potranno soddisfare ogni vostra esigenza Sei pronto a farti travolgere dall'onda hotel? Italiano Telegroup oppure Hospitalità Italiana